Non sono stata io a decidere, non sono stata io a decidere, e nemmeno tu, e nemmeno tu. Dove sono? Ricordate che hai visto ho 25 anni che mi faccio in un culo a cussi e non lancio la nevra a nessuno. Fallamelo per tua vita! Aspetta! Mi stai scelto, Mario! Io sono bravo sola! 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 La prima non rientrerà mai più in questa classe!